In Cina hanno già l'ordolo EP8 mentre noi in Europa abbiamo ancora l'ordolo EP6 e il più recente EP7 che secondo me siccome è la più facile delle head mounted camera o wearable camera come dir si voglia, adesso vi faccio vedere quanto è facile, io la accendo col pulsantino posteriore, registro col pulsantino, avete sentito star returning? Per me è un po' basso perché io sono audioleso ma comunque con gli apparecchi lo sento anch'io ed è molto figo questo head mounted camera perché vi fa vedere in soggettiva quello che vedo io, per esempio sto per fare delle prove sulle migliori action cam per andare in moto, vi faccio vedere tipo qua ho la Garmin Virb che è molto figa perché ha i dati di accelerometro quindi vi fa capire come guidate quando andare in moto. La GoPro 6 sto facendo la comparativa fra 6, 5 e 7 che sono le GoPro ancora economiche perché la 9 l'ho pagata a 300 euro, guardate il video in cui spiego come pagarla a 300 euro ed è interessante ma sono comunque 300. Se volete spendere di meno fra la 5 le 6 e le 7 vediamo insieme qual è la migliore o la questa è la Ricoh WGM2 e l'ho presa perché è strana perché tu la puoi lanciare da 2 metri di altezza e vedete che con l'ordro EP7 la soggettiva è molto bella perché io vi faccio vedere che sto usando la camerina e voi è come se la steste usando anche voi, vi dà la sensazione di averla in mano. E quindi questa camerina qua la Odro EP7 è un ottimo prodotto, sono molto contento che esca la EP8 che ovviamente con fido mantenga le stesse qualità della EP7 ma con qualcosa in più che adesso vediamo insieme. Fra l'altro c'è anche il microfonino, la qualità audio ovviamente è inferiore a quella di Instamic che è il migliore per ora microfono per vlogger, sto anche provando di Sony e sto sempre aspettando che qualcuno mi dia un feedback sul videoconfronto fra il Sony e l'Instamic. Comunque il microfono di Ordro EP7 come qualità è buona ma è ovvio che è un microfono dedicato è meglio. Ma andiamo a vedere una per una appunto, siccome ho tutte le immagini di presentazione, le specifiche le ho tradotte dal cinese all'inglese e vediamo che la P8 può... può registrare in 4K 60, poi dicono 2K 7K 30, io ho trovato sulle specifiche 4K 60 e 30, le P7 anche lei veniva data per 4K 60, ma a me, siccome vi dico sempre la verità, ha registrato sempre in 4K 30 che va benissimo. Però in scene d'azione, siccome questa si può montare anche sul casco, quando andate in moto allora diventa la perfetta camera da moto vlog, perché è fatta a tubo, no? Quindi sui caschi, sulle moto in genere sono più comodo le action cam, quelle lineari e non quelle a scatoletta. Il 4K 60 è meglio nelle scene d'azione, soprattutto andate in moto non vedete tutto sfocato. Ha un nuovo sensore, il Sony MX355, che io ho visto, sembra essere quello usato sul Google Pixel 4a e ho provato a vedere la qualità dell'immagine registrata con la front camera Google Pixel 4a, sono veramente molto buone, è ovvio che è la camera posteriore e superiore. Però, se mantenesse la qualità del Google Pixel 4a per le immagini sarebbe molto interessante. Seven Glass Optical Lens, ha questo obiettivo con 7 lenti, è diverso dall'odro EP7, se adesso ve lo faccio vedere notate che è molto diverso rispetto alla foto. Anche se in realtà anche l'EP7 sembrava avere già una struttura a 7 lenti, però si spera ovviamente che la nuova sia superiore, insomma questa è sempre la nostra speranza, no? Poi vediamo che cos'altro, un aspetto che a me piace tantissimo ed è un po' il core della camera, cioè l'anti-shake, la gimbal a due assi che già in questa è sufficiente, nel senso che in queste situazioni va bene, ma io sono molto stabile. Se io inizio a fare le cose già con un po' più di agitazione, ti faccio vedere la GoPro 6, poi la Garmin Virb, lo faccio con questa velocità, dà un pochino di mal di mare, vero? E la nuova EP8 sembra risolvere, migliorare questa performance. L'angolo di visualizzazione è aumentato da 120 di questa qua, è diventato 130 un pochino in più, secondo me questo andava già bene, nel senso che per cose che tengo in mano va bene, anche per quanto guardo avanti mi sembra che si veda tanto. 10 in più, non sono tantissime, ma voglio vedere l'effettiva efficacia, cioè come rende. Poi loro dicono che ha un sistema Distortion Correction, che molte action cam hanno, se l'hanno integrato e l'immagine risulta lineare, tanto meglio. Poi vediamo che cos'ha. Poi, allora, c'è la possibilità di registrare in Hard Shot Mod, sono dei sistemi che si usano su dei social cinesi, sono Duin e Qashu, la pronuncio ovviamente l'ho detto malissima, uno è TikTok e l'altro è Snack Video, cioè praticamente il nome cinese di due app per la condivisione, una TikTok e una per la condivisione video, che è Snack Video, ma solo in 1080, però non avendo mai usato queste app, non so. Poi vediamo, ha il Time Lapse Shooting, che potrebbe essere interessante, magari più usato in moto, perché mentre mi muovo e cammino si muove talmente tanto che dovrebbe avere una gimbal, una stabilizzazione incredibile, mentre quando vado in moto, montata sul casco abbastanza stabile, può essere molto interessante avere il Time Lapse del vostro percorso fatto in un minuto, fate vedere quattro ore di viaggio, con le curve che si susseguono in fretta. Questo potrebbe essere interessante. Type C interface, questo ha un micro USB e la velocità di carica è diventata da 5-10 Watt, cioè la metà del tempo. Questo prima si caricava, secondo me, più di un'ora, un'ora e mezza, l'ideale sarebbe diventata addirittura mezz'ora, così io faccio un video. Perché ti fermi tu? Allora, io sto registrando con Ray My Steady, che mi segue in automatico, ogni tanto si spegne, adesso mi segui? Va bene. Dicevamo, 10 Watt tramite la nuova porta USB-C, quindi una carica più veloce, e la batteria che dovrebbe arrivare a due ore contro un'ora e mezza di questo, e a me sembra che in effetti potrebbe arrivarci un'ora e mezza, eh? Di sicuro ho fatto più di un'ora, quindi sono dati abbastanza credibili. Waterproof rating, molto interessante, IPX5, quindi non la potete mettere ovviamente a bagno maria, però insomma, se andate in giro di nuovo in moto e piove, siete un po' più sereni. Uh, un'altra cosa, questo era un po' al limite di questa camerina, a seconda del telefono che voi usavate, e io su alcuni proprio non riuscivo a guardare, diciamo, l'app, a vedere l'anteprima del video, perché saltava, cioè, ci metteva 20 secondi a connettersi, dopo due secondi si scollegava. Quindi la nuova conditività anche a 5 GHz, da quello che leggo, 5 Wi-Fi 5 chip, dalla traduzione dal cinese all'inglese, dovrebbe essere una welcome addiction, mentre non è welcome addiction, ma è welcome staying, nel senso c'era già prima, mentre la usi, se la connetti a una power source, quindi a un power bank, non so con che scomodità, continui ad usarla. Una cosa peculiare che ha questa è che se da spenta tu la ricarichi, metti quindi il cavo, lei si accende, e a me questa sembra un pochino una stupidata. Spero che questa nuova non ce l'abbia, la soluzione è semplicissima, perché tu metti il cavo, lei si accende, la spegni, e lei si carica e basta, non resta accesa. Però comunque, questo potrebbe creare confusione. Il controllo remoto, quindi questo braccialetto, io non ho mai usato, ma c'è, io non l'uso perché c'è il pulsante qua, non trovo molta differenza di fare così o così, però magari quando siamo in moto, ecco, in effetti non l'ho ancora usato in moto, non vedo l'ora di metterla a confronto con queste camere più specifiche, o anche la Ghost Drift, che in questo caso non trovo più, che anche lei è tubolare, quindi per capire se sia meglio la Ghost Drift o la Hard Royale P8 come migliore action cam da moto, quindi un aspetto molto carino, l'attacco da un quarto, con la vita in un quarto, ce l'ha anche le P7 e le P6, non ho mai preso le P6, ma mi sembra che ce l'avesse al 100%. Questa scatolina qua, adesso vi faccio vedere la mia, io in realtà non mi trovo in questa, perché la devo smontare, io sono uno che, sono lento e devo fare un sacco di cose, quindi quando la metto via, la devo metter via tutta intera, senza star lì a smontarla, anche perché questo angolo qua, non dico è difficile, però una volta che l'hai trovato, tu vuoi avere la serenità che la monti e l'angolo sai che è giusto. Se la puoi metter via già montata è più comodo, quindi la mia preghiera, please order, make this bag for order AP9, maybe, bigger so I can put my AP8 or 9 in the bag mounted without unmounting it. Dirà così, non lo so. U3 iSpeed Memory Card fino a 256 GB ed era uguale. Me lo sono segnato, era uguale, era U3 anche l'altro AP7, loro danno 64 GB 110 minuti, che è coerente col mio esperimento, 3 GB per 5 minuti, quindi questo sembra essere interessante, ed è interessante, dato del bitrate, che avevo letto da qualche parte, adesso non trovo più, mi sembrava di aver letto che arriva a 100 MB al secondo, che è tantissimo, sono tipo la Insta360 che fa quei MB elevatissimi, quindi per un'ottima qualità d'immagine. Due colori disponibili, nero e grigio, a me piace molto di più nero, questa grigia mi ricorda un po' questa, ma il fatto che questa è squadrata mi sembrava più bellina, quindi nera, secondo me, morbida e nera, cioè delle linee più morbide e nere, esteticamente più piacevole, però questo è a gusto. Dico, io grigia, a me sembra più bellina questa, no? Vedi? Questa qua, come è grigio, secondo me, il colore grigio è meglio l'AP7, è più bellina, a me sembra bellina l'AP7 grigia, quindi l'AP8 io la prenderei nera. Vediamo un riassunto di tutte le specifiche, non in cinese, ah, una cosa interessante, 30 centimetri, mentre l'AP7 veniva già data, secondo me, no, vabbè, l'AP7 veniva data per 10 centimetri. Ah, che noia, ci sei più? Ho rubato tutti i metri. Facciamo caso se le scritte dei numeri sono a fuoco, qua è 10, 20, 30 centimetri, circa, 40, 50. Per vedere meglio se a fuoco vi faccio lo zoom, e notate che il tavolo circa un metro in realtà va bene, qua è 10, 20, 30, 40 e 50, da vicino non è mai perfettamente a fuoco, quindi il nuovo dato delle P8 è 30 ed è già più realistico, però le P7, questo sarà a 50, circa un braccio di distanza, le P7 è un po' il suo punto debole, la close distance, quindi se dovete fare delle soggettive che camminate e guardate le macchine è perfetto, se dovete fare delle soggettive e far vedere nel dettaglio che io ho messo questo ring attorno al mio iPhone XR per fare in modo che fosse compatibile con la carica magnetica e volete farlo vedere da vicino, secondo me non è che si vede un granché bene, cioè tende a vedersi poco definito. Quindi speriamo che questo 30 sia veritiero, perché secondo me le P7 col 30 fa già fatica. Schema riassuntivo in una grafica carina, battery life increased by 25%, sembra di sì dai dati, orizzontale verticale, io non sono TikToker, ma per chi è TikToker... Sui social brevi io non ho mai capito se ci distraggono e basta che, però a parte quello per chi è TikToker è molto interessante, o Instagrammer. Bene, vi lascio, spero che l'oltre del privato arriverà molto presto da me, perché vi farò vedere come funziona, faremo prova e verifichiamo se in effetti è la miglior camera per quando vado a fare i jogging, per quando faccio bicicletta, per esempio, cioè io la monto e non ci penso più. Ah, anche se poi è la miglior camera per tipo Microsoft Teams o Zoom, cioè la miglior camera head mounted per lo streaming. Quando sono in videoconferenza, io parlo e faccio vedere e faccio lo streaming, ma questo lo dovrò testare sul campo, quindi aspettiamo di vedere l'ordro EP8 quando arriva e capiamo questo aspetto. Grazie a tutti.